Molti uomini non si fidano di quella che è la seduzione per un motivo ben preciso. La seduzione richiede un impegno, è una sorta di sfida con te stesso. C'è anche da dire che tantissimi uomini sono cresciuti con un ideale errato femminile delle donne e hanno una paura terrificante solo a relazionarsi, a parlare con loro. La prima cosa fondamentale della seduzione è il divertimento. Flirtare non è una roba tipo andare in miniera a lavorare. Va bene, c'è un margine di rischio, ma intanto stai agendo, non sei lì nell'angolino a crogiolarti nelle lacrime. Poi la seduzione è un'opportunità di crescita personale per migliorare le tue doti comunicative, di relazioni, i tuoi contatti interpersonali, ha tantissimi vantaggi. Ti consente quindi di avere una maggiore fiducia in te stesso e questo non guasta. Ovviamente stai alla larga dai cosiddetti cliché dei film, delle serie tv, eccetera. Cioè, utilizza l'arte della seduzione rispettando quella che è la tua personalità.